Si eh? Fa troppo malata Lo c'ha di raggio sta cosa? 600 600? Si Infatti è esageratissima Sto scherzando? No No vabbè Super esagerata Sì Mettono sta roba e si giocherà soltanto dalla distanza Si E non vedo soltanto a che cazzo sto sparando Lo friggi proprio Sparo soltanto al centro Al centro del sagiccio Ma qual che c'è oltre il muro? Eh no Vagone Non mi stupirebbe Non ti stupirebbe Cazzo di dash Si sa perché questa volta hanno rimesso i dash Però quella x è proprio inutile Qualche sono troppo sgravi i dash Io non li metterei mai così No Ma poi perché devono fare due dash? Ma fagli fare un cazzo i dash Grazie Già uno è bello Bello grosso Magari abbassi un po' il pull down Che ne so Ma due dash Che cazzo Tre medie secondo me sono esagerato Si quello medio dovrebbe avere due medie e una piccola Guardati Dai ma friggi qualsiasi cosa Ma che so ste armi Ma non è normale Così dovremmo giocare Io ogni volta gli ho detto di nerfarle No fanno troppo troppi danni Eh beh Mi fa nel feedback di nerfarle Ma sai che ancora non ho mandato mezzo feedback? No? Mai No Perché non mandarmi la mail? Sono fiducioso No sto giro gliela mando Se mi ricordo come cazzo si fa Addio mi stanno guardando con gli zenith Aiuta C'è gente che sta provando le afidi ma siamo pazzi C'è gente che sta provando le afidi ma siamo pazzi Tutta sta roba nuova Oh mio dio Oh mio dio quanto cazzo di danno Stavo affrontando un Natasha Tempest Molot Comunque si fa veramente cagare Cosa? Questo nuovo gioco Sembra il nuovo gioco più merdoso Sì Boh Prende mandagliere il feedback perché Magari pensano che Sì sì no ve lo devo mandare Eh vabbè per quelle volte che ho giocato Questa è la seconda volta sarà che mi sto godendo il tesser Ah Proviamo quello alto va Quello grosso che non ho provato Che c'ha questo? La scuola fisica Il... Come cazzo si chiama? Bulgasari Mamma mia che brutto Se lo usi con lo scourge Puoi tenere... Sai guardare verso destra mentre spari qualcuno Però sempre tenendo lo scourge Sai al limite dello scourge Per cui metti lo scudo da... come se mettessi lo scudo davanti Ah salta sta merda Chi? Ah no c'è scritto salto ma non è salto Ah no dash Sì c'è lo scudo però messo tipo a tre quarti in diagonale Perché se tipo equipi usi le taran Non puoi... Quindi c'è che... come cazzo mi devo mettere per... Devo storcere per coprirmi Tipo mettiamo che tu hai il nemico a metodgiorno no? Eh Tu devi guardare tipo a ore due Per lo scourge continua a sparare no? E guardando a ore due lo scudo ti protegge da... dal nemico a cui stai sparando Se quello scudo messa a tre quarti normalmente non ti permetterebbe di sparare a uno e di tenere lo scudo davanti Invece con lo scourge lo puoi fare E guardare Ma... Ahia ultima bot dai se abbiamo una F a 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 comunque penso proprio che per questi molot è meglio usare il lancelot a 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